Fa ancora discutere la stretta di De Luca sul ristoranti e Movida che disciplina orari di ingresso nei ristoranti e modalità di servizio nei bar. Gli imprenditori del settore più che nuove ordinanze chiedono più controlli, come ci spiega Domenico Iovino, imprenditore del comparto della ristorazione. Già con le ordinanze precedenti tutto il mondo della ristorazione e della Movida aveva comunque preso delle precauzioni. Però non è che puoi fare un coprifuoco, devi impiegare le forze militari, polizia, carabinieri per controllare. Chi trasverisce lo devi punire. L'ordinanza colpisce in maniera diversa ristoranti, bar e street food penalizzati chi si occupa del food notturno, come ad esempio le famose cornetterie di notte. Lo street food è un insieme di situazioni che si viene a creare appunto con la Movida, perché la gente si ferma in piazza a parlare, a bere, e successivamente mangia. Quindi è un polo. Con questa ordinanza noi chiudiamo il polo della Movida per 20 giorni. Io capisco che bisogna essere prudenti. Non dimentichiamoci che ci sono dei reparti che fanno un tipo di food notturno, queste persone che fanno. Intanto l'attenzione maggiore è rivolta ai sistemi di sicurezza, distanziamento, mascherina, lavaggio delle mani, misurazione della temperatura all'ingresso e documento per gli avventuri dei locali. In un modo o nell'altro noi riusciremo a cercare di farcela anche questa volta, però poi mi soffermo su attività come, per esempio, Piazza Matteottina è piena. Queste attività che cosa fanno? Però non ci può essere un'attività che tu tartassi e un'altra cosa che magari lasci libera. Grazie.